Musica In studio Veronica Puglisi Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a una nuova edizione di MTG lo avete sentito dai titoli di prima pagina a tavolo di confronto questa mattina a Palazzo di Viale del Fante a Ragusa per discutere della gestione dei rifiuti è chiusa dal 30 aprile il sito di Cavademo di Cani e per le autorizzazioni l'assessorato territorio ambiente ha preso 90 giorni ma rassicurazioni sono giunte dal presidente della regione Musumeci presenti i sindaci, due deputati regionali e la CGL che ha organizzato l'incontro Viviana Sammito Il conferimento dei rifiuti nella discarica di Cavademo di Cani a Ragusa è bloccato dal 30 aprile giorno in cui è scaduta la proroga e dopo la quale sono obbligatorie le autorizzazioni di via e bus per renderla operativa Nel frattempo i comuni di Accate, Vittoria e Chiaramonte conferiscono i rifiuti ad Alcamo mentre gli altri enti traenellentini con un aggravo dei costi per le casse comunali Urge una soluzione presto il commissario del Libro Consorzio Salvatore Piazza l'ha individuata nel presidente della regione Nello Musumeci il quale ha dato rassicurazioni sui tempi celeri di rilascio delle autorizzazioni di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica una garanzia sui tempi molto lontana da quella dell'assessorato territorio ambiente che aveva annunciato i 90 giorni per l'ok alla riapertura dei cancelli della discarica Di prima mattina sono intervenuto presso il presidente della regione che mi ha assicurato che nell'immediato avrebbe chiamato l'assessorato per cercare di accelerare al massimo questa autorizzazione per fare rifunzionare gli impianti di TMB Comunque la deputazione ha preso l'impegno che avrebbe convocato sia i due assessori sia il presidente della commissione che si occupa di queste cose proprio per addivenire una soluzione comune che possa nel breve tempo fare ottenere l'autorizzazione Avete già individuato il nuovo commissario dell'SRR? No, domani ci sarà una riunione dove individueremo il nuovo commissario ma nel caso che non ci fosse una soluzione unanime il commissario straordinario nominerà d'ufficio La documentazione prodotta è stata ritenuta valida e quindi la nuova richiesta è stata incardenata Io fino a quando ero commissario ma anche l'ASRR abbiamo sollegetato il Dipartimento Ambiente Fra l'altro c'è una ordinanza, la UNORIF, del presidente della regione che detterebbe tempi più corti riguardo alle valutazioni ambientali nel clima di emergenza da Covid Il presidente del CDA dell'SRR, il sindaco Peppe Cassia dal canto suo ha ribadito durante il confronto che i valori riscontrati sono compatibili con le esigenze della salvaguardia della salute ambientale non c'è alcun rischio che l'impianto chiuda definitivamente una garanzia per i lavoratori che sono in cassa integrazione del futuro occupazionale ne ha parlato il segretario generale della CGL di Ragusa Peppe Scifo che ha anticipato una manifestazione di forte impatto sociale Un impianto che funziona nel massimo della sua performance C'è anche la preoccupazione ovviamente da un punto di vista del lavoro già i lavoratori sono in procedura di cassa integrazione e questo non è accettabile soprattutto in una realtà che funziona Noi abbiamo detto che tra una settimana saremo già nelle condizioni di creare una forte mobilitazione assieme ai sindaci per questa problematica Non c'è più tempo E continua ad essere alimentata la discarica di via Fondo Romeo a Catania Stamattina abbiamo effettuato un nuovo sopralluogo e abbiamo beccato un cittadino scaricare dei rifiuti Potremmo dire beccato Già abbiamo colto in fragrante un signore che tranquillamente in via Fondo Romeo a Catania arriva con la propria motoape per gettare indisturbato i rifiuti in questo caso scarti di edilizia che vanno ad alimentare una discarica che nonostante gli interventi e l'amministrazione cresce sempre di più perché l'amministrazione ha tolto un po' di rifiuti a cominciare dall'Eternit ma altri ne sono stati gettati ed ecco che questa discarica cresce a dismisura da qui l'appello che fa il consigliere comunale Petralia alle persone affinché abbiano cura del territorio e dall'altro lato l'intervento è l'amministrazione che chiede più partecipazione e soprattutto evidenzia come ci siano troppe discariche a cielo aperto in città a causa di persone che non rispettano le regole il fenomeno negativo di discarica va avanti ecco noi in questi giorni stiamo sostenendo degli incontri sempre più frequenti e produttivi con l'amministrazione in primis con l'assessore Fabio Cantarella per cercare di trovare finalmente delle soluzioni definitive e appunto efficaci nonostante i nostri sopralluoghi nonostante gli articoli di stampa e di tv purtroppo l'inciviltà non si è fermata è andata avanti indisturbata quindi cercheremo con l'amministrazione di intensificare ancora più i controlli e di trovare delle soluzioni ancora più appropriate Noi stessi stamattina abbiamo documentato la presenza di un signore che gettava materiale di risulta tranquillamente alla luce del giorno Una richiesta che faccio ai residenti e ai non residenti cioè di non scaricare più lo chiedo veramente col cuore in mano a nome dell'intero quartiere a nome dell'intera periferia non scaricare più e cercare di evitare in questo modo questi fenomeni così negativi e spiacevoli che oggi si sono manifestati Noi da tante parti della città riceviamo foto, video, mail rispettiamo l'anonimato però arriviamo a sanzionare e individuare questi soggetti che peraltro sono sempre gli stessi chi va lì con un mezzo per scaricare materiale di risulta o amianto o altri rifiuti speciali lo fa abitualmente quindi beccarli per noi è fondamentale ci aspettiamo collaborazione da quella parte non abbiamo mai ricevuto né un video, né una foto, né una mail Noi siamo passati lì per un sopralluogo questa mattina abbiamo appunto beccato una persona questo è significare che se ci fosse un controllo costante se ne potrebbero beccare di più persone Sì, parlavo poco anzi col responsabile dell'ambientale mi diceva di 400 sanzioni elevate in questo mese cioè stiamo aumentando il ritmo dei controlli non è facile avere un vigile urbano in ogni traversa in ogni sito pensate che le discariche come quella di via Fondo Romeo sono 151 che noi abbiamo censito che ogni giorno vengono alimentate così da soggetti incivili che non hanno alcuna cura dell'ambiente quindi avere il cittadino da nostra parte è fondamentale Andiamo alla situazione sanitaria in provincia di Ragusa perché una modicana tornata dalla Lombardia è risultata positiva al Covid-19 e la tensione deve restare alta di con i sanitari Una coppia ultra settantenne ha fatto il rientro a Modica dal nord Italia il 25 di maggio attenendosi a tutte le regole ricordiamo infatti che sino al 3 giugno per chi rientrava e si spostava da regione a regione era sottoposto ad obbligatoria quarantena un obbligo degaduto con il nuovo decreto ministeriale La coppia composta da Modicani di origine si è attenuta a tutte le regole e sottoponendosi a tampone ha appreso della positività attenzione solo uno dei coniugi era positivo al Covid-19 ed asintomatico Questo caso fa riflettere perché è stato un caso che si è potuto isolare e circoscrivere in quanto le regole stringenti sugli spostamenti l'obbligo di quarantena con conseguente tampone hanno permesso di monitorare in passato e agevolare una mappatura dei contagi La mancanza di obblighi di quarantena e tampone deve portare ad una maggiore coscienza civica adesso La mancanza di restrizioni infatti non è sinonimo di fine dell'emergenza che ha piegato e messo in ginocchia e continua a farlo tutto il mondo ma un input a tornare ad una nuova e consapevole normalità che non può viaggiare su una retta parallela dai presupposti maturati durante il lockdown Giro una voce da qualche giorno tra i corridoi dell'assessorato regionale alla sanità che vorrebbe l'ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa nuovo ospedale Covid a dirlo è il sindaco di Modica Ignazio Abbate ad un primo impatto potrebbe sembrare anche una cosa positiva visto che solleverebbe il già affollato maggiore di Modica da un'ulteriore incombenza però appare quanto mai sospetta afferma il sindaco la tempistica di questi sussurri visto che arriva non appena si è saputo dei milioni di euro in arrivo per tutti gli ospedali Covid siciliani spendibili in ristrutturazioni ampliamenti e in opere di miglioria vuoi vedere prosegue il sindaco che dopo che il nostro ospedale ha affrontato con grande professionalità e tantissimi sacrifici la fase più acuta dell'emergenza ora nel momento di raccogliere fondi destinati alle strutture Covid si vede scavalcato dal paterno Arezzo è un dubbio logico commenta il sindaco di Modica faremo di tutto dice per difendere i nostri diritti chiedendo la mobilitazione dei cittadini delle associazioni e di tutti coloro che hanno a cuore la sanità di questo distretto su 140 test sierologici eseguiti tra i dipendenti della Sibeg società di Catania che imbottiglia prodotti a marchio Coca-Cola tre sono risultati positivi asintomatici i test sono stati effettuati nell'ambito di un piano di prevenzione attuato dall'azienda a tutela della salute dei lavoratori la spallertata dall'azienda ha fatto eseguire i tamponi i cui risultati saranno noti tra due giorni intanto l'amministratore delegato ha fatto sapere che eseguirà un'ulteriore sanificazione in altri 100 test sierologici ai dipendenti che non li avevano ancora fatti avvia la fase 3 in Sicilia con l'obbligo di registrazione sul portale regionale Sicilia Sicura per chi arriva nell'isola e non è residente chi arriva in Sicilia e non risiede nell'isola dovrà registrarsi nella piattaforma Sicilia Sicura lo prevede una nuova ordinanza il Presidente della Regione Nello Musumeci che istituisce anche le USCAT Unità Sanitaria di Continuità Assistenziale Turistica e fornisce le linee guida per favorire la più ampia diffusione del protocollo che entra in vigore oggi e che sarà valido fino al prossimo 30 settembre già la scorsa settimana in conferenza stampa con Guido Bertolaso il Governatore aveva annunciato la nascita di queste unità territoriali che ricalcano le USCA le unità che in queste settimane si stanno prendendo cura dei siciliani che sono risultati positivi e in isolamento domiciliare ciò che si prefigge la Regione è di poter regalare una vacanza serena a chi sceglie l'isola e dall'altro lato tutelare i siciliani grazie infatti alla registrazione sul sito le USCAT potranno occuparsi del monitoraggio della presa in carico e dell'assistenza degli eventuali casi sospetti da Covid-19 fra i non residenti o i domiciliati nella Regione nel caso in cui un soggetto dovesse risultare positivo si applicheranno i protocolli vigenti del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità e qualora non sia necessario andare in ospedale ma si debba osservare un isolamento domiciliare esso verrà organizzato alla Regione Siciliana senza oneri a carico dell'interessato collaborazione viene chiesta anche ai titolari e alle società di gestione dei trasporti di qualsiasi struttura ricettiva anche a carattere extra alberghiero che saranno chiamati a promuovere il sistema di registrazione sul sito siciliasicura.com mentre il Dipartimento della Protezione Civile regionale dovrà coordinare mediante il numero verde 800 45 87 87 il call center per l'assistenza sui contenuti e il protocollo in particolare aiutenti verranno erogati servizi in lingua italiana e inglese con informazioni di natura sanitaria per i gestori delle attività produttive nonché quelle per i cittadini che si sono registrati e settimanalmente verrà redatto un report sull'andamento degli ingressi in Sicilia i catanesi ritornano piano piano a comprare nei negozi della città piccoli segnali di ripresa ma ciò che si avverte è la mancanza di turisti piccoli segnali di ripresa li intravedono i negozianti del centro storico di Catania da quando hanno riaperto i negozi lo scorso 18 maggio la gente ha cominciato a venire appunto in questi negozi ha cominciato a fare i primi acquisti ciò che manca però ci dicono è la presenza dei turisti perché soprattutto in Viettenea centro storico appunto della città di Catania la presenza dei turisti sicuramente aiutava a cambiare quello che era il volume degli affari come vanno gli affari da quando avete riaperto la gente ha fiducia viene nei negozi non tanto bene perché qui lavoriamo soprattutto con i turisti un po' di provincia e nient'altro aspettiamo solo questo e fine settimana si lavora senza turisti senza provincia purtroppo niente quindi le aperture domenicali forse aiuterebbero si aiutano ma infatti noi siamo aperti già da due domeniche soprattutto proprio fine settimana allora diciamo che siamo ripartiti però piano piano ancora la gente diciamo che un po' spaventata e niente che dire stiamo provando stiamo ricominciando è un po' difficile però dobbiamo avere un po' di fiducia la gente viene a fiducia allora ti posso dire che la prima settimana è una sorta di 50-50 nel senso che la gente era in strada perché era la riapertura quindi come se fosse una cosa nuova per tutti quanti i negozi noi abbiamo fatto il possibile per farli sentire a proprio agio quindi la gente viene la confusione non è più quella di prima perché comunque sia per le restrizioni sia per un minimo di paura la confusione è diminuita però tutto sommato diciamo che a poco a poco si sta riprendendo Flashmob in piazza Poste a Ragusa dopo l'approvazione del decreto legge sulla scuola Flashmob del mondo della scuola questa mattina in piazza Poste a Ragusa così come a livello anche nazionale è stato approvato il decreto legge che è diventato legge lo scorso fine settimana dalla Camera dei Deputati e questo ha scatelato anche una serie di polemiche da parte dei sindacati tra cui anche della CGL vediamo quali sono i punti che hanno dato molta perplessità hanno riscosso delle preoccupazioni nel mondo della scuola tramite le parole del sanitario della FLC CGL Scuola Grazie la Perticone la proposta è solamente quella di cercare di ridurre il numero di alunni per classe che non darebbe solamente sicurezza dal punto di vista sanitario e quindi per l'emergenza in corso ma sarebbe quella di recuperare l'istruzione il rapporto docente-alunno perché non c'è dubbio che poter insegnare a un numero ristretto di discenti quindi soprattutto di bambini o comunque di alunni anche del superiore quindi poter trasmettere le conoscenze per l'acquisizione di competenze e di abilità facendo classi di 10-12 alunni è una cosa differente che farne di 28-29 è necessario creare delle nuove strutture ampliare le classi e speriamo in fondi anche europei che possano praticamente attenzionare questo problema C'è la necessità di avere delle classi più sicure dal punto di vista strutturale per tale ragione che la CISL Scuola Siracusa si è battuta per rimettere mano sull'edilizia scolastica così come anche previsto nella legge approvata dalla Camera dei Deputati che appunto riguarda la scuola lo sdoppiamento delle classi per non creare assembramento anziché quei box in plexiglass questo però è un limite nella scuola italiana perché mancano i docenti stabilizzati nelle classi noi abbiamo scuole sul nostro territorio dove gli spazi non vengono utilizzati per mancanza di autorizzazioni o perché non sono stati fatti i necessari interventi di messa in sicurezza quindi un intervento sull'edilizia e questo territorio diciamo che ha una dotazione media come dotazione edilizia ci sono scuole veramente nuove ci sono scuole che sono edifici più fatiscenti ma comunque sicure bisognerebbe intervenire moltissimo su quell'aspetto e se ne parla da anni ma non si è mai messa in atto veramente forse questo è il momento buono e questo è il primo punto il secondo punto sono sicuramente gli organici perché se dobbiamo veramente sdoppiare le classi se dobbiamo mantenere dei livelli di sostenibilità dal punto di vista del lavoro perché credetemi il lavoro del docente è pesante perché non è soltanto il lavoro in aula che comunque richiede una dose di energia non indifferente ma è anche il lavoro che noi abbiamo come back office di preparazione di studio di strutturazione degli argomenti gli adempimenti che bisogna comunque fare perché sono importanti nella vita scolastica cioè tutto questo lavoro deve essere fatto in serenità la Will Scuola si è battuta per la semplificazione nei concorsi così da poter dare la possibilità ai docenti che da più di 30 anni lavorano e insegnano nelle scuole di poter accedere di ruolo negli istituti e così garantire la continuità didattica noi come Will Scuola abbiamo chiesto che vengano stabilizzati i precari con 36 mesi di servizio allo statale tramite una graduatoria per titoli quindi senza fare delle prove preselettive o orali io secondo me è stata una manovra per ostacolare i docenti fatto sta che dal primo di settembre le scuole si ritroveranno come ora a dover chiamare i docenti precari e quindi una stabilizzazione a mio avviso non ci sarà Parliamo delle aperture domenicali contestate dai sindacati Il nuovo decreto quello del 5 giugno del presidente della regione siciliana Nello Musumeci che stabilisce l'apertura di domenica di outlet supermercati e negozi di abbigliamento ha fatto alzare la sticella della protesta perché lei della dignità del lavoratore ne è convinta la Filcams CGL con il suo segretario provinciale Salvatore Tavolino che ha chiesto al governatore di fare un passo indietro no alle aperture selvagge e soprattutto sulla pelle di madre e padre di famiglia solo per meri profitti economici Riteniamo che vada aperto subito un tavolo c'è un problema ad oggi di sicurezza c'è un problema di dignità del lavoro abbiamo visto che anche in presenza del coronavirus in un momento così delicato l'organizzazione della spesa di tutto quello che poteva scaturire è andata molto bene sarebbe augurato che il presidente della regione convocasse le parti poi in maniera più serena magari programmassimo alcuni momenti di tutela massima e di sicurezza e si avviasse questo percorso che comunque per noi va avviato perché c'è un processo produttivo c'è una situazione drammatica e quindi assieme dobbiamo uscirne uscirne bene per il sindaco di Modica Ignazio Abate la battaglia continuerà fino a quando si legge nella sua nota noi raggiungeremo l'obiettivo anche se la dovessimo affrontare da soli il primo cittadino è invitato al buon senso i datori di lavoro perché ogni ordinanza in difformità circolare e regionale diventerebbe illegittima il tema delle aperture domenicali sarà discusso nei competenti tavoli palermitani a dirlo è il presidente provinciale di cofcommercio ragusa Gianluca Manenti il quale ha aggiunto di essere certo che grandi mutamenti scatenati dalla pandemia porteranno a trovare soluzioni condivise anche con le parti sociali al fine di armonizzare le norme che forse oggi non rispondono in pieno con le esigenze del mercato ci fermiamo c'è una breve pausa pubblicitaria tra poco seconda parte del nostro telegiornale primo weekend di avvio della stagione balneare in molti si sono riversati nei litorali blei le raccomandazioni sulla prudenza e distanziamento sociale sono sempre vigenti e invitano a mantenere alta la guardia perché il nemico invisibile non è stato ancora sconfitto ma al contempo il ritorno graduale alla normalità e l'avvio nei primi scorci d'estate della stagione balneare ha contribuito al ritorno nelle spiagge e nei lidi il clima mite e il bel tempo dopo una lunga fase di lockdown ha spinto molti ad iniziare a frequentare le località balneari anche in provincia eblei i cittadini hanno approfittato delle belle giornate per un primo bagno dunque con ombrelloni asciugamani gli amanti del mare non hanno rinunciato qualche ora da trascorrere lontano dalle città godendo del primo sole estivo qualche giro in bici sport all'aria aperta passeggiata e Marina di Ragusa si è presentata così lo scorso weekend in tanti hanno deciso di raggiungere la spiaggia e il lungomare Andrea Doria si ritorna gradualmente alla normalità l'estate è vicina dall'istituzione permane il richiamo al rispetto delle misure al distanziamento sociale la denuncia che arriva da più parti e che in molti non indossano una mascherina nei luoghi dove non è possibile mantenere le distanze attenti a distanziamento e il monito che giunge da più parti il covid-19 ha cambiato le nostre abitudini e seppur stiamo ritornando lentamente alla normalità e alla vita sociale iniziando a frequentare gli spazi all'aria aperta a cui per molto tempo abbiamo rinunciato è necessario assumere tutte le precauzioni per la nostra salute e quella degli altri il covid non è stato ancora sconfitto il nemico è invisibile e l'unico modo per difenderci è attenersi alle misure rimanendo sempre vigili e attenti e Pozzalescifi sono stati i comuni attenzionati questo fine settimana dai controlli dei carabinieri per prevenire il contenimento del contagio i carabinieri della compagnia di Modica hanno svolto nello scorso weekend una serie di servizi per garantire la tutela dell'ordinato svolgersi della movida e delle serate presso i luoghi di aggregazione di persone i militari della stazione di Pozzallo nel corso di un servizio volto a reprimere il traffico e lo spaccio di stupefacenti hanno deferito in stato di libertà alla procura di Ragusa per detenzione di stupefacente un giovane di 32 anni a seguito della perquisizione operata con l'ausilio dell'unità cinofila dell'arma il ragazzo è stato trovato in possesso di circa 5 grammi di marijuana e un grammo di hashish con tutto l'occorrente materiale per il confezionamento in dosi lo stupefacente è stato sequestrato e sarà inviato al laboratorio di sanità pubblica per le analisi nell'ambito della stessa operazione è stata segnalata alla prefettura di Ragusa quale assuntrice di doga una giovane di 26 anni trovata in possesso anche di droga sintetica a Scicli il personale dell'aliquota radiomobile ha eseguito un controllo su alcuni giovani che si trovavano in assembramento nelle vie del centro senza le previste mascherine e non rispettando il distanziamento sociale li hanno contravvenzionati in osseguo alle norme per il contenimento del contagio i militari della tenenza di Scicli hanno denunciato a piede libero per truffa una donna di 42 anni nello svolgimento di attività di controllo del territorio i carabinieri hanno anche scoperto che nel contatore dell'energia elettrica di casa la donna aveva piazzato una pellicola fotografica per truffare la società di distribuzione dell'energia elettrica la denunciata aveva sottratto circa 6.000 euro di energia alla società che distribuisce il servizio un'area demaniale del porticciolo di Ognina Catania è stato sequestrato dalla guardia di finanza era stata avviata un'attività abusiva di noleggio barca aveva avviato un'attività di noleggio posti barca senza alcuna autorizzazione ad accertarlo i militari e la guardia di finanza di Catania che nel corso di un non controllo al porticciolo di Ognina hanno notato come una porzione di banchine di specchio acqueo di circa 200 metri quadrati era stata occupata da un uomo che è stato deferito alla locale autorità giudiziaria per il reato di abusiva occupazione di superficie demaniale marittima l'uomo avviando questa attività che prevedeva il pagamento di un non canone mensile non si era preoccupato di ottenere le concessioni demaniali e le autorizzazioni per gli spazi occupati sia a terra e sia per lo specchio acqueo ne è stato possibile rilevare la comunicazione di inizio attività nel corso e gli interventi finanziari hanno sequestrato tutto il materiale utilizzato per avviare questa attività un ombrellone un tavolo delle sedie dei bidoni per il rifornimento di carburante e una lampada a led per agevolare le operazioni in notturna e la porzione di specchio acqueo e gli spazi occupati a terra abusivamente sabato sabato scorso primo giorno di esami per le terze classi della scuola secondaria di primo grado dell'istituto Carlo Amore di Frigintini il dirigente Rosario Biazzo ha elogiato il lavoro di insegnanti e studenti la scuola è finita ma per gli studenti delle terze classi della scuola secondaria di primo grado è tempo di esami computer alla mano i ragazzi dopo l'emergenza covid-19 si sono organizzati in maniera diversa per poter affrontare la prova che quest'anno si presenta in modalità ben diversa nessun compito scritto nessun contatto diretto con gli insegnanti tutto sarà discusso con un colloquio a distanza nell'istituto comprensivo Carlo Amore di Frigintini gli esami di terza media in modalità telematica sono iniziati sabato sulla base dell'ordinanza ministeriale numero 9 del 16 maggio gli studenti hanno trasmesso al consiglio di classe un elaborato inerente una tematica condivisa con i docenti realizzato sotto forma di testo scritto presentazione anche multimediale mappa filmato produzione artistica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi ad indirizzo musicale il dirigente scolastico dell'istituto Carlo Amore Rosario Biazzo ha elogiato il lavoro degli insegnanti e dei ragazzi una risposta positiva è un merito una nota di merito a tutti gli insegnanti sicuramente che hanno risposto positivamente a tutto il personale scolastico che ha collaborato a questa attività un pensiero però sicuramente particolare deve andare ai ragazzi i ragazzi che stanno vivendo questo momento in una maniera così particolare una maniera così positiva e caratteristica delle nuove generazioni di essere positivi propositivi di essere attenti agli sviluppi in qualche modo di rispondere positivamente alle sollecitazioni e devo dire che questa dimostrazione ce la stanno dando questo esempio questo stimolo anche per noi per vedere quanto siano pronti ad affrontare le sfide della vita e questo è l'augurio che voglio rivolgere a tutti che possano cogliere questa sfida come un anticipo di quello che sarà il loro futuro la loro vita e ringraziandole per l'esempio che ci hanno dato e augurando loro ogni bene Le verità sulla scogliere di Cavadalica al centro di un incontro promosso da un gruppo facebook assente il mondo politico dubbi arrivano dagli scranni dell'opposizione proprio sull'assenza di istituzionalità dei percorsi nella borgata Io l'unico appello che posso fare è eliminare tutta questa burocrazia Si è presentato alle decine e decine di persone che hanno aderito all'evento come un piccolo imprenditore del posto che aveva messo in campo idee e denaro su un progetto che doveva essere lungimirante Peppe Conti ha accettato l'invito del gruppo social su facebook Cavadalica Merita Di Più per promuovere un evento pubblico per dare risposte del perché dell'abbandono della fatiscente struttura Dopo che avevamo iniziato i lavori quindi in regola con tutte le autorizzazioni è emerso circa una decina di anni fa l'erosione del costone roccioso e mi è stato risposto che non c'erano i fondi stanziati per poter intervenire in questo tratto di costa a quel punto abbiamo avuto un'idea molto pazza che abbiamo chiesto di sostituirci noi al pubblico solo che era diciamo una procedura che non è stata mai fatta aveva seguito tutto un dirigente il dottore Marino che era dirigente qua al De Manio il dottore Marino purtroppo è stato sostituito da un altro dirigente che è il dottore Moscuza che quando ha visto la pratica dovendo firmare lui ci ha detto non posso firmare se prima non riesco a capire come è stata impostata questa pratica quando ha acquistato la scogliera? 15 anni fa si aspettava di trascorrere 15 anni dietro la burocrazia? no una sala trattenimenti ristorante con una enorme terrazza con un ampio lounge bar questo il progetto studiato per la scogliera e per la sua nuova vita un progetto che ha attirato anche alcune critiche dai partecipanti c'è chi ha chiesto all'imprenditore di mostrare più sensibilità abbattendo l'ecomostro chi invece ha preteso di visionarne il progetto per valutarne l'impatto fatto sta che come avete sentito purtroppo anche se è importante come incontro per chiarire i contorni di una complessa vicenda non si è trovata la reale risoluzione in quanto non compete al privato ma al pubblico in tal senso è stata avviata una petizione è stato sottolineato dagli organizzatori dell'evento il gruppo non inquadrato giuridicamente ma puro contenitore social con l'avallo delle istituzioni locali si è imposto nel panorama locale come riferimento per la comunità che ha chiesto in passato risposte all'amministrazione e non avendole si è inglobata in questa realtà Cavadaliga merita di più dal mondo politico però non mancano i dubbi sulla legittimità e sulla opportunità degli interventi promossi da questo gruppo che si sarebbe sostituito alle istituzioni detto ciò tornando alla scogliera noi di MTG abbiamo avviato un'interlocuzione con il Dipartimento regionale che sta curando la pratica della struttura nei prossimi giorni riceveremo delle risposte e con questo è tutto il TG termina qui l'appuntamento con l'informazione ritorna alle 16.30 buon pomeriggio Buon pomeriggio Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS